Lei a Palermo per la prima volta a presentare questo libro, Il Vangelo della Misericordia, che cos'è che l'ha spinto a scrivere questo libro? Ma innanzitutto la sorpresa di Papa Francesco di indire il Giubileo della Misericordia, un Giubileo straordinario che di per sé è straordinario sia perché non fa riferimento alla scadenza 25 anni, ma poi anche perché non c'è neanche un evento storico che possa fare riferimento o quantomeno sollecitare un Giubileo. E poi anche lo stesso tema della Misericordia perché il tema della Misericordia attraversa tutti i Giubilei, l'indulgenza e credo che sia la massima espressione della Misericordia di Dio. E allora mi sono posto la domanda perché Papa Francesco ha voluto un Giubileo straordinario della Misericordia? Perché la risposta che io mi permetto di proporre con questo testo è che il Papa risponde a un'esigenza della società, cioè la società che chiede alla Chiesa di presentare il suo Dio, la sua proposta religiosa, ma soprattutto di verificare se Dio può entrare nella storia. E questa è la grande sfida che la Chiesa ha davanti a sé perché noi viviamo in un modo in cui la dimensione religiosa diventa sempre più diragante, che certamente è un aspetto positivo, ma può portare anche a una difficoltà di venire incontro all'esigenza della società contemporanea. Ecco, allora credo che l'intuizione di Papa Francesco sia davvero un grande servizio per la società contemporanea perché per la sua esperienza di globalizzazione, di dinamicità, dopo i fragmenti o quantomeno le difficoltà che alcune proposte del Novecento hanno offerto alla società, pensiamo all'esperienza marxista, libera capitalista con la crisi del 2008, ecco, credo che questa responsabilità Papa Francesco l'ha avvertita e con il Giubileo vuole rispondere a questa attesa della società contemporanea offrendo non un Dio misericordioso, ma offrendo il Vangelo della misericordia così come emerge nella bora di indizione Misericordia Vultus dove Papa Francesco indica in Gesù Cristo il vero voto della misericordia di Dio. E questo significa allora che la Chiesa è chiamata a dare una testimonianza non solo con le opere, ma anche con la proposta di progettualità che aiuti la società a saper guardare avanti ripartendo anche da alcuni errori compiuti nel passato, ma sapendo che Dio è presente nella storia e quindi insieme, soprattutto con i battenzati, è possibile ripensare un nuovo sviluppo globale a cui Papa Francesco ha richiamato non solo la Chiesa, ma tutta l'umanità nella sua encichica, laudato sì. Grazie.